A rispettare e osservare, vi do le linee di rettico del 12 e 5 delle qualità di vittime dove è il fondo di vita. Al tipo 144, con il matrimonio da lì per l'amore acquistano i stessi diritti, a sfuggire nel sito di doveri. Dal matrimonio, derivato con il ricerco alla fidgettà, all'assistenza a morare materiale, alla collaborazione delle interessi della famiglia e alla coabinazione. E tra i conti che sono tenuti, ciascuno di relazioni delle sostanze, è la propria capacità di lavoro con il senato Casalino a concludere la visione della famiglia. Articolo 144.